In tanti mi avete chiesto come si fa ad arrivare all'eccellenza, all'eccellenza in qualsiasi abilità, in qualsiasi competenza della vita personale o anche professionale. La mia risposta per arrivare all'eccellenza serve un mentore, serve una persona di riferimento che ti porti per mano, che ti accompagni ad arrivare al massimo. Questo mentore è una persona che ti aiuta ad arrivare al punto di destinazione non solo molto più rapidamente, ma anche evitando alcuni errori che potrebbero essere in certi casi fatali. Quindi seguimi in questo video, io sono Roberto Buonanno, ciao a tutti, benvenuti e questo è il video che mi avete chiesto in tantissimi, ovvero il video sull'importanza di un mentore, come si sceglie, come ci si lavora e come si fa a sfruttare al massimo questa grande opportunità che avrete se avrete la voglia di mettervi in gioco. E quindi di rivolgervi a qualcuno di particolare. Quindi, primo punto, chi è un mentore? Allora, io ho scoperto anche io a mia volta recentemente, per un po' di ignoranza di cultura classica, che mentore era il precettore di Telemaco, il figlio di Ulisse, nell'Odissea. Quindi colui a cui Ulisse, lo sto leggendo, ho il foglio qua con gli appunti, il ruolo di mentore era soprattutto quello di consigliere fidato e di protettore del figlio di Ulisse, Telemaco. E l'eroe dell'Odissea lasciò la propria casa, la propria famiglia, tutto ciò che va di più prezioso per l'appunto, in custodia. A mentore, quindi guardate com'è importante. Allora, io ho un'altra definizione di mentore, che è consigliere saggio e fidato, cui è riconosciuta una sorta di autorità paterna. Quindi siamo ancora molto sul paterno. So che non va molto bene per l'LGBT, quindi magari non farò maschile, femminile e neutro in questo video, perdonatemi anzitempo. Allora, qual è la mia definizione, quella dei miei mentori, di mentore? Qualcuno che ha già raggiunto obiettivi che per te sono un sogno. Qualcuno che è già arrivato laggiù dove tu desideri con tutta la tua forza di arrivare e ti può insegnare la strada più breve, quella più efficace per raggiungere i stessi obiettivi. Attenzione però, deve aver raggiunto questi obiettivi e questa è la versione di Roberto Buonanno, anche mantenendo un discreto equilibrio nelle altre aree della vita. Quali sono le aree dell'esistenza? Io qui metto una piramide che è quella che Tony Robbins ha preso da Maslow, che ha preso da altri. Adesso non fatemi dire l'origine corretta che potrei sbagliarmi. Questa piramide è molto importante. Parte da una base e da questa base si sale. E come vedi, alla base c'è il corpo fisico, ok? Perché dove vai se hai dei gravi problemi di salute che ti impediscono perfino di respirare, faccio un esempio tragico, senza soffrire gravi dolori. E poi c'è il significato, le relazioni, la gestione del tuo tempo, la tua carriera, le finanze e poi contributo alla società e spiritualità, ok? Quindi, quando io cerco un mentore, io non dico che cerco l'essere umano perfetto, ma perlomeno deve avere un po' di equilibrio. Per esempio, parlavo l'altro ieri con dei ragazzi molto bravi nel mondo della finanza personale, a cui ho detto che una certa persona, che per molti è un drago, non è draghi, a me non piace perché, nonostante abbia raggiunto risultati pazzeschi dal punto di vista imprenditoriale, una grande SPA che vale tantissimo, fa un sacco di soldi, però questa persona mi aveva confidato che lui aveva lasciato la moglie con un figlio di un anno. Per me, una persona che lascia un figlio di un anno, quale che possa essere stata la storia dietro, comunque non è una persona che in quest'area per me molto importante che è la famiglia, non è una persona di successo in quell'area. Quindi io prenderei con le pinze anche i suggerimenti dal punto di vista finanziario e societario. Ebbene sì, perché per quanto mi riguarda, questa persona nel raggiungere successo finanziario e societario lo ha fatto con un metodo che ha sacrificato un bambino di un anno. Io, piuttosto che togliere la presenza costante del papà a un vivo di un anno, cerco un altro metodo diverso, alternativo, o piuttosto vado un po' più lento da quella parte lì delle finanze, dell'azienda, dello sviluppo professionale, perché riconosco pari se non superiore importanza al ruolo della famiglia. Ok? Questo è il primo quadro. Allora, a cosa serve un mentore? A cosa serve questo grande maestro, questo precettore, questa figura di riferimento, che è anche una mentore potrebbe, una mentrice, una mentina. Insomma, cosa serve? Serve per avere dei consigli, delle consulenze, serve per avere delle pillole di saggezza che ti aiutano nel momento del bisogno. Serve sempre, no, serve in specifiche parti della tua vita, perché ci sono dei momenti in cui tu devi affrontare un determinato percorso, una determinata svolta di carriera, oppure vai nell'ignoto, fai un balzo nell'ignoto. Io per esempio ho trovato un mentore che mi guidasse nell'ingresso a Dubai. Questa nuova realtà per me è completamente sconosciuta. Ed è stato questo famoso big look, tanto chiacchierato. Per me è stato il perfetto punto di raccordo tra la mia realtà societaria, aziendale, personale, familiare, tutta racchiusa dentro la superficie italiana e un trasferimento in un posto comunque quasi alieno, perché cambia tutto per cultura, religione, distanza, clima, ambiente fisico, cambia tutto. Ecco, questo è un esempio di mentore, magari può essere temporaneo, quindi in varie fasi della tua vita tu hai bisogno di un mentore diverso. E come si fanno a sfruttare i consigli del mentore? Semplicemente richiedendoli e puoi capire cosa richiede in cambio. Molti non ti chiedono niente, ma altre tanti ti chiedono per esempio tanto denaro, ok? Andiamo avanti. Punto fondamentale. Non ho i soldi per pagarmi un mentore. Come diavolo faccio? Allora, il principio della scarsità di risorse è... io lo trovo assurdo. Innanzitutto io sono d'accordo con chi mi ha insegnato che i soldi sono un'energia infinita. Di soldi ce n'è una riserva illimitata. Quello che ti serve è diventare una persona in grado di ottenere le risorse per raggiungere qualsiasi obiettivo, ok? Come dice Tony Robbins, devi essere resourceful. Cioè non devi avere le risorse, ma devi essere uno in grado di ottenerle quando servono. Tony Robbins è stato uno dei miei mentori. Io non l'ho mai incontrato. Quindi non è che non l'ho incontrato e non ho fatto una consulenza privata con lui perché non volevo o non potevo pagarlo. Non ce n'è stata l'occasione. Ho fatto altri passaggi. Però per esempio se tu vuoi avere un'attività di mentorship, in italiano esiste mentoraggio, va bene, con Tony Robbins e non vuoi pagare... lui per esempio vanta di avere un circolo di elite da un milione di dollari all'anno, tu non vuoi pagare un milione, non puoi... hai un altro modo per spendere il tuo denaro... compri un libro, ascolto un video su YouTube, puoi entrare in contatto oggi grazie ai social network con tutti i più grandi personaggi, coach, insegnanti del mondo tramite YouTube e i loro social. Magari li segui e troverai come per esempio su canale YouTube di Bob Prottor, uno dei miei mentori che non ho mai incontrato perché quando mi sono deciso a studiarlo è morto, gli avrò portato sfiga. sul suo canale YouTube troverai interi seminari da ascoltare in maniera completamente gratuita. Magari non è l'ultimo seminario registrato che ne so cinque anni fa, sarà quello fatto magari negli anni 80, ma capirai che la maggior parte dei concetti è ancora buona e quindi in maniera completamente gratuita puoi avere dei consigli. Oppure compri il libro, no? Per esempio vuoi sapere è il momento che devi posizionarti su LinkedIn, c'è il mio libro, costa poco più di 20 euro, 317 pagine. Se il tuo obiettivo è entrare in contatto con me e onorarmi di avermi scelto come tuo mentore, sappi che qui ci ho messo tantissimo della mia vita, della mia filosofia, di tutto quello che io penso e che poi ti porto anche su questo canale gratuitamente. Il libro L'etica dell'eccellenza di Paolo Ruggeri, che è una lettura, cioè questo libro è sottile ragazzi, ma è spesso nell'anima, costa 20 euro. Ma lo compri, lo leggi cento volte finché non ti entra nell'anima e tu entri in contatto con un grande mentore come Paolo Ruggeri con 20 euro. Quindi non ho soldi, non è una scusa, per non cercarsi un mentore. Devi seguire più mentori contemporaneamente? Allora, guarda, io ti dico non più di due alla volta, se no vai in confusione. A parte che in determinate categorie specifiche come il marketing, le finanze personali, lo sviluppo della gestione d'impresa, si inizia a seguire due mentori o tre, inizia a fare una vera e propria insalatona che diventa un pasticcio. E quindi cosa fare? Non più di due alla volta, possibilmente legati a due discipline differenti. Quindi se domani decidi di seguire, per esempio, per lo sviluppo della gestione di un'attività di marketing, che ne so, Big Luca e Frank Berenda, fai un casino pazzesco perché chiaramente in certi punti loro differiranno e sarà veramente un caos per te discernere cosa fare di giusto. Poi attenzione, quando un mentore ti sceglie, perché questo lo dice sempre uno dei miei mentori storici coambogiato, non è l'allievo che sceglie il mentore, è il mentore che sceglie l'allievo. E Big Luca direbbe, molto bene così gli faccio pagare anche di più. Quando il mentore ti sceglie, devi ascoltare quello che dice. Puoi commentare, puoi chiacchierare, puoi entrare nel merito dei suoi suggerimenti, dei suoi consigli. Puoi anche chiedergli la dietrologia, cioè come sei arrivato a questa conclusione, ma poi devi applicare come dice lui. Se no, sei punti a capo. Siccome quelli che chiedevano a me un consiglio su un computer, poi ne compravano uno completamente diverso perché lo trovavano in offerta a MediaWorld, poi mi richiamavano e mi dicevano, Roberto, il computer che mi hai detto di comprare non funziona. Ah, mi hai comprato questo computer di questa marca? No, ho comprato quest'altra marca perché è in offerta. Arrangiati. Quindi, non più di due alla volta, due discipline possibilmente diametralmente opposte. Allora, quando hai scelto un mentore, devi copiarne anche lo stile di vita, la sua impostazione familiare, la sua religione, la sua spiritualità, tutto quello che fa. Assolutamente no. No. Anzi, a volte ci saranno dei mentori che, anche se io cerco un equilibrio, specialmente nelle aree che io rispetto di più, in altre aree saranno completamente sbilanciati. Perché l'equilibrio totale, ragazzi, ma neanche il Dalai Lama, ma neanche Gandhi, il Mahatma, pochi illuminati al mondo sono riusciti a essere centrati in tutte le varie aree della vita. È veramente difficilissimo. Quindi qualcuno potrebbe essere un grande maestro di meditazione, di filosofia, di marketing, di business, ma avere un po' di pancetta, avere il vizio della sigaretta, qualche birra di troppo. Allora, l'essere umano perfetto è morto tanto tempo fa, mi sembra lo chiamassero alcuni momento, alcuni Gesù Cristo, insomma, ognuno crede in quello che vuol credere. Ok? Però diciamo che quelli perfetti sono tutti morti. Ora, il mondo è popolato di esseri umani imperfetti. Quindi concedi delle imperfezioni. Il tuo mentore un giorno potrebbe avere la scella che gli puzza, però in quel giorno stesso potrebbe darti delle pillole di gestione di impresa che, ragazzi, potrebbero cambiarti resistenza. Quindi dagli un po' di tregua. Quindi, cosa fondamentale però, se il tuo mentore ti deve insegnare ad arrivare a una forma fisica perfetta, non può essere grasso, non può essere un iperobeso. Se un mentore ti deve insegnare a migliorare la tua relazione di coppia, non deve essere uno con quattro separazioni alle spalle. Ok? Quindi facciamo molta attenzione a questo punto. Ok accettare qualche squilibrio in altre aree della vita, ma laddove lui deve insegnarti nella disciplina specifica per la quale ti rivolgi a lui o a lei, deve essere perlomeno perfetto. Ok? In quella parte lì richiediamo la quasi perfezione. Benissimo. Si può avere un mentore legato al tuo business? Certo che sì. Un imprenditore non deve per forza avere come punto di riferimento altri imprenditori. Per esempio, vuoi imparare la resilienza? Puoi imparare da Nelson Mandela, che si è fatto tanti di quegli anni di galere e torture prima di riuscire a raggiungere il proprio sogno. Vuoi imparare l'arte della resistenza passiva, l'arte della perseveranza? Puoi studiarti appunto il Mahatma Gandhi. Puoi studiarti persone che hanno vissuto in altri tempi, vissute in passato, tuttora viventi, che hanno fatto grandi cose che ti possono ispirare in positivo anche se tu, per esempio, fai un lavoro, hai un'impresa, svolgi un'attività completamente diversa. Un grande sportivo ti può essere di spunto, di esempio, per esempio, anche se tu magari fai il dentista. E quindi sì, 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 non deve essere per forza il calco identico di quello che un giorno vuoi diventare tu. Deve essere qualcuno che in una o più aree è arrivato a un punto di eccellenza tale che o ti ha di ispirazione, oppure tu, per quelle specifiche caratteristiche, lo vuoi imitare o magari migliorare. Perché no? Perché? Perché l'allievo può sempre superare il maestro. Poi non devi ucciderlo come in certi film giapponesi. Mi raccomando. Nel mio ultimo punto mi ero segnato, il mio team mi aveva segnato di citare alcuni dei mentoli che hanno dato una svolta, un miglioramento o che hanno molto, 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 molto contribuito a quelli che sono stati fino adesso i miei successi, ok? Allora, io ne posso citare alcuni che sono più semplici da digerire e altri che sono poco digeribili. Ho già detto il nome di uno di questi, che per esempio è Big Luca, che ha creato un casino pazzesco su questo canale quando io ho dedicato un'intervista e poi alcuni brevi video. Allora, prima di giudicare un mentore che ti è suggerito da un amico, da qualcuno che ci tiene a te, da qualcuno che comunque non è un pirla, nel senso non è che sono qua a fare il gioppino, ho fatto qualcosa di buono alla mia esistenza. Quindi prova a studiare dei suoi materiali, ok? Studia dei suoi materiali, entraci in contatto un po' meglio, un po' più approfonditamente e entraci in contatto al netto della tara di quella che può essere un tuo primo pregiudizio. Quindi, per esempio, uno ti sta antipatico perché è sardonico, è irriverente, è strafottente. Metti da parte questa cosa qua e prova a giudicare solo il contenuto, per un po', per un po'. Io spesso dico per scherzare a persone a me care, per esempio una persona a me carissima, lei non sopporta le persone sovrappese. Io ho detto, va bene, ma Umberto Eco era abbastanza paffuto, che ne so, Guccini beveva un pochino troppo. È vivo e morto Guccini, ho fatto una gaffa, ditemi voi nei commenti. Comunque non è uno che è allesinato col vino, la parola vino ricorre nelle sue canzoni spesse e volentieri, ma caspita, personaggio eccezionale. Mi sarei tagliato una mano per poter fare in certi momenti della mia vita una chiacchierata con Francesco Guccini, per dire, no? O con Umberto Eco. E quindi, vie pregiudizi, valutiamo il contenuto. Poi se il contenuto non ti piace, allora vai sfoga, ti insultano anche per l'aspetto fisico, per quello che dici o perché è troppo irriverente. Allora, coambogiato assolutamente è stato un punto di riferimento fondamentale che mi ha fatto capire che per me era arrivato il momento, a un certo punto, di iniziare il mio cammino da imprenditore libero, da imprenditore liquido e di far diventare la mia famiglia una famiglia di cittadini internazionali. Per me lui, tuttora in questo, è il migliore in assoluto. Oltre a essere una persona che ha un valore della famiglia, degli affetti, dell'amicizia esagerato che io apprezzo tantissimo. Poi, Paolo Ruggeri, il signore qui dell'etica dell'eccellenza, fenomenale per la gestione dell'impresa e, come dice lui, per lo spiritual business, ovvero fare azienda ma con sempre al centro dell'attenzione lo sviluppo e l'interesse vero e concreto per le persone che compongono la tua azienda. In un mio video precedente ho detto che l'azienda è fatta dalle persone, non dai capannoni o dalle mura di un ufficio. E quindi cosa c'è di più importante di loro? devi imparare. Paolo Ruggeri è un maestro in questo, con la sua OSM. Ok. Big Luca per una parte dell'ottimizzazione che è stata necessaria durante la mia esistenza di un trasferimento in un posto lontano, quindi Big Luca sicuramente ha delle conoscenze pazzesche di ottimizzazione di mindset e mentalità di ricchezza e poi adesso è un super specialista evidentemente anche di vivere all'estero, trasferirsi all'estero e fare un'ottimizzazione patrimoniale per mettere al sicuro quello che hai e quello che avrai in futuro. Ok? Annetto della Tara, che ad alcuni sta antipatico, a me sta molto simpatico da sempre, quindi non ho avuto questo problema. No, non ce l'ho avuto. A me sta simpatico. Sto pensando a un altro nome da dirvi. Allora, grazie a Big Luca io ho conosciuto Bob Prottor, che vi consiglio di seguire sul suo canale YouTube, metto qua sotto il link, gratuito, guardatelo. Già lì c'è un materiale pazzesco per andare avanti per anni in inglese. Imparate l'inglese. Mi spiace. E per questo video è tutto, non ne aggiungo troppi perché se no vado a violare uno dei miei punti che è quello di dirvi o di farvi seguire due o più menteri contemporaneamente. Non è il caso.